Via da lì! Fuori subito! E' l'ultima! Anche l'ultima! Ancora! Ancora! Vanati subito! Vanati subito! Vanati destro gancho! Vanati dentro gancho! Vanati! Vai, vai! Vai, vai! Vanati! 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 Vanati in su! Dai con la serie, dai con la serie, dai con la serie, dai subito, fuori! Vai, vai! Vai, vai! Dai subito, dai, dai! Scriva via! Patrizia Gibelli, Roberta Bornaghi. Grazie a tutti. Ai punti vince Patrizia Gibelli. Il signor Poggi abitrerà il sesto incontro della serata, si sale di categoria. Nella categoria dei pezzi supermassimi, Antonio Flora della Bosca Lugia di Lecco affronterà...